Benvenuto. Non perdiamo tempo. Tre domande per voi. Qual è la persona più importante della vostra vita? La persona più importante della mia vita sono naturalmente io. Nessuno in tutta Londra lavora come me e giustamente nessuno guadagna tanto quanto me che mi spezza la schiena dalla mattina alla sera. Se potesse realizzare un sogno? Il mio sogno? Beh, se fosse per me tutti questi scribacchini che succhiano il sangue a un povero vecchio che gli deve versare ben 15 cellini a settimana, dormendo sui tavoli e facendo finta di lavorare e che poi scialacquano i soldi in frivolezze, andrebbero impiccati. Ci racconti un episodio felice della vostra vita? I ricordi più belli sono senz'altro legati a quando sono stato assunto grazie al mio duro lavoro e a quando grazie al mio duro lavoro ho guadagnato il mio primo cellino. Queste sono cose importanti. Grazie, grazie davvero. Bagiamate.